ragazzini buongiorno cosa prepara la nostra donzella oggi basta con le gozze come 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 ripeti? basta con le gozze col sugo però non in bianco col sugo col sugo ragazzi le cosiddette tubettini con le gozze come? le cosiddette tubettini con le gozze beh le tubettine le devi fare? sono le tubettine? non lo so però comunque basta di questo ragazzi avete visto? oggi noi mangiamo tubettine con le gozze oppure sono i tubetti comunque basta di questo tipo i semini le stelline no vabbè i corallini poi sei esagerato o no dai ci siamo alzati abbastanza presto stamattina abbastanza presto lui ci siamo alzati alle 11 e un quarto bugia che 11 e un quarto no alle 11 bugia alle 11 mi sono alzati vedi il primo messaggio che ho mandato? vedi? dai mi fermo tu? eh è stato di l'amore no è ma quando... lì lì! guarda 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 senti l'odore qua e si vuoi? si ma lei appena ci giriamo noi fa l'azione ma no 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 vabbè furba perché lo sai che se la vediamo un po' vediamo no? è normale oggi è una bellissima giornata ah no bugia è un po' umida no? un po' affusa giusto? non so non so se oggi scendiamo o andiamo al parco andiamo al parco oggi portiamo al lilly ah? non lo so poi vediamo poi vediamo ora preparerò un po' di macedonia ah macedonia madonna preparerò un po' di macedonia e poi ma il pesce lo facciamo stasera o per secondo? non lo vorrei fare per stasera che se no per secondo non ce lo mangio eh allora stasera mangeremo orate si si mangiamo stasera l'orate ehi facciamo così guarda senti ti sento facciamo orate in cartoccio e le patate al forno mmm yummy yummy lili 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 svegliati e primavera lili sono le sette e tu devi andare a scuola quante ciupi guardate davanti ciupi eh adesso i giochi non l'ha lasciato ragazzi pasta con le cozze mamma mia mamma mia e stiamo guardate che piattonate e poi dici che sono io che vado sempre no vedi quanto ne ha qua vedi che sotto ce li hai ah pure io ne ho qualcuna buon appetito ragazzi buon appetito guarda che fai le foto li fa le foto li fai i seffi alle cozze fatta guardate cosa che lo hai fatto mamma mia E stiamo Al momento della frutta E Mentre Lilli mi lecca la caviglia Mi stava leccando la caviglia Qui mangiamo della frutta assortita Banane Per Kiwi Frappola E' un ragazzo sexy 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 E' una donna sexy E' un cane sexy Basta E' un Jerry Scotti sexy E' una signora sexy In questa casa o sei sexy O non entro Lo so E continua L'ha leccata la caviglia L'ha lecca Ora sto sopra sto salendo E' finito di leccarmi? Poi dobbiamo vedere i video Allora ragazzi sto per fare un messaggio privato ad una persona Che dice In giro Che In casa ha tutto sotto controllo Che so Se li manca qualcosa Se li manca qualcosa Lei se ne accorge Lei sa E' Va beh Vi faccio vedere Cosa noi abbiamo da una settimana E non sei ne accorta di nulla Questa persona Vi faccio vedere Vi faccio vedere Cosa sono queste cose? Sono due calamiti Che vanno attaccate Ai frigoriferi A Ad una parete di metallo Abbiamo preso uno piccolo Perché Se avessimo preso solo questo piccolo Eh va beh ma è piccolo Però abbiamo preso anche questo Questo portapane Portabaguette Che è abbastanza Vistoso Perciò Tanto io so chi è Poi alla fine del video ve lo svelo chi è Eh no E domani sveleremo Per vedere Se questa persona Vede il video E lo sa Manderà un messaggio Nei commenti E dirà Sono io E dirà Che sicuramente Non se ne accorta Sì no Sicuramente dirà Eh ma me ne ero accorta Perché non l'hai detto? Eh Ti abbiamo fatto Che c'è lì lì? Quella pallina Che c'è lì? 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 Dove sta la pallina? Eccola No No Che bigliacca Dammi qua Dammi qua Dammi qua Lilli Dammi la pallina Lilli Madonna mia Che fesso che sono Dammi Vieni qua Ciuppettina Stavo giocando con la pallina di carta? Ah Fì mi ha fottuto Ciuppe Vieni qua Vieni qua Eccola che brava Mi ha fottuto Mi ha fottuto Guardate i piedi Ecco i piedi Ecco i piedi Collina Guarda come li ho messi Mo se li spezzano Mi ha fatto andare all'acqua di traverso Ma perché ce li hai con i miei piedi? Guarda i miei piedi Guarda come sono belli Sì sì Mi ha fottuto Ho le calze Ed è football Football Sì brutto Football Beh Che dire di questa serata? E anche questa è passata Anche questa domenica è finita ragazzi Le giornate passano troppo in fretta Ragazzi vi do una bellissima notizia Praticamente Io ho un canale mio Che si chiama Play set 5 1 E praticamente ho partecipato a un Fuck contest Di Quarto Rodrigo O Rodrigo IV Un bellissimo canale originale Spero che decolli Che prenda il volo Perché onestamente Chi lo fa Lo fa bene Vabbè Stringiamo il brudo Ho partecipato a questo contest Ho risposto a tre domande E sono state le più simpatiche E ho vinto Vi metterò il video in descrizione Così poi voi lo potete anche vedere Anzi Se cliccate sulla mia mano La vedete la mia mano? Se cliccate andate al video Ok? Cliccate Cliccate Fatto? Bravi E niente Poi che dire più Che dire più Ho vinto Ho fatto il primo premio Perciò visto che ho vinto Iscrivetevi al canale Mugia scherzo Dicendo la giornata di oggi È passata molto veloce Ci sei Madonna mia Wow E basta Wow Mai visto un braccio così Muscolo Danielino Il video Il video Non è che ci vuole Una cinepresa Di alta definizione Per farci un video Dai L'aspettiamo Bene E te? Niente Oggi Niente bacetto Fino a quando Danielino Vi ricordo che Faremo una live Fra quanto? Vediamo Danielino ha detto A che ora la fate? Penso che la faremo Di domenica Domenica pomeriggio Verso le 17 Le 18 Che sono più o meno Tutti a casa Che nessuno lavora Poi vediamo Dai Però Avviseremo Almeno una settimana prima Tranquillo Eh l'ho scritto Avviseremo prima Va bene ragazzi Dai il video di oggi Termina qui Iscrivetevi al canale Condividete Commentate Winelso Lo sai cosa ha scritto L'altro giorno Sul video che Sul video sorpresa Quale? Quello che le ho portato Praticamente ha scritto Praticamente ha scritto Che è stato un maltrattamento Per i pro Non ce l'ho Hai capito? Maltrattamento Maltrattamento al pro A un ragazzo pro Winel Winel Che maltrattamento È stato spaventato A me no Fino a quando lo vado a trovare Il commento E sarò spaventato E aggredito Ha detto Il telefonino Dove sta? A me lo trovo Dai Aggredito Addirittura E sarà aggredito Un piccolo pro Ecco lo flow Sorpresa S N 85 Vediamo Sorpresa Allora ha scritto Ha scritto Fermati In questo video Un esemplare di pro Viene selvaggiamente spaventato E filmato Fermiamo il maltrattamento Sui pro Winel Winel Come è spaventato Perciò Va bene ragazzi Dai il video di oggi Termina qui Iscrivetevi Commentate Condividete Mettete un mi piace Alla pagina Facebook Instagram O Twitter Ciao Ciao a tutti Buonanotte E fermiamo i maltrattamenti Sui pro Sono brutte le mie gambe Ragazzi Si Pinocchio Ma dove va Vedi che polpaccio Vedete Sì